Non è andata come volevamo, non è andata come l'anno scorso, però la partita è andata come l'anno scorso, siamo partiti bene dal primo minuto, siamo andati in vantaggio a 0-2 e dopo un episodio, lo posso dire anche stupido, in 42esimo abbiamo perso un stupido gol e dopo li abbiamo riportati dentro in partita. E quando sembrava che questa partita va a nostro favore, abbiamo fatto 3-4 occasioni, abbiamo sbagliato tanto, pensavamo che alla fine portavamo un punto a casa, è successo una cosa incredibile, il 97esimo ha preso gol e torniamo a casa senza niente, purtroppo, siamo dispiaciuti tanto e delusi anche. Come avete detto voi, questa partita è anche specchia da tutta la stagione, siamo partiti benissimo in questa partita, siamo partiti benissimo in questa stagione, giocando un buon calcio anche oggi, all'inizio stagione, dopo è arrivato un calo, non lo so perché è arrivato un calo incredibile, oggi anche un calo in stagione, però dopo quel calo siamo arrivati oggi con un'altra opportunità per fare gol su 2-2, anche in stagione così, siamo ripresi e dopo quando siamo ripresi abbiamo sbagliato, alla fine è andata così male in partita, oggi anche tutta la stagione, perché non è così stagione una brutta stagione, però potevamo stare molto più alto in classifica, è grande dispiacere per tutti noi. Abbiamo iniziato secondo tempo, siamo arrivati al fondo due o tre volte, abbiamo fatto buone occasioni e loro hanno fatto un gol da punizione, dopo giocavamo, noi abbiamo fatto due o tre occasioni, penso uno contro uno con portiere, Betto, Arslan, due o tre cross, anche Tawin un tiro aveva da 7-8 metri, dopo abbiamo preso il novantasettesimo, un gol, tutti pensavamo che la partita finisce 2-2, e alla fine abbiamo preso quello gol e purtroppo è andata così male in partita, poteva essere una grande partita oggi come siamo partiti in primo tempo, però purtroppo siamo delusi veramente.